Diciamo che quel vocale che avevano pubblicato settimana scorsa lasciava pochi dubbi. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi vi voglio parlare del nuovo DLC di Jurassic World Evolution 2 che si chiama Dominion Malta Expansion. Proprio oggi pomeriggio è stato pubblicato il trailer dedicato a questo nuovissimo contenuto per questo videogame. Vi ricordo che il pacchetto costerà 20€ e sarà disponibile a partire dal prossimo 8 dicembre 2022. Sarà affiancato come è successo in precedenza per gli altri DLC da un update gratuito che però andremo a vedere con calma in un prossimo video. Oggi vi volevo elencare tutti i contenuti presenti nel pacchetto a pagamento. Diciamo che sono rimasto sorpreso perché oltre a contenere delle nuove mappe e dei nuovi animali, questo DLC contiene anche una nuova modalità campagna. In questa modalità lavoreremo al fianco di tanti personaggi che abbiamo incontrato in Jurassic World Dominion come Kyla Watts, Soiona Santos, Louis Dodgson e naturalmente non mancherà anche il nostro carissimo amico Cabot Finch. La storia sarà ambientata prima degli eventi dell'ultimo film e in tre nuove località del Mediterraneo. Per creare gli animali utilizzeremo il Dinosaur Exchange che ci permetterà anche di recuperare uova e parti di genoma quindi non dovremo andare a scavare fossili ed estrarre il genoma da questi ultimi. Lavoreremo con le autorità ma anche con le bande locali quindi avremo a che fare con il mercato nero e completando i vari obiettivi avremo la possibilità di sbloccare degli aggiornamenti per l'incubatrice, nuove location e tanto altro ancora. I progressi fatti e le ricerche rimarranno una volta fatti e ci potremo spostare come vorremmo sulle tre isole. Naturalmente potremo fare la stessa cosa con gli animali, unica cosa il denaro e gli scienziati invece saranno vincolati ad ogni singola location. Diciamo che dovremo fare in modo che tutte e tre funzionino alla perfezione. Una volta completata la modalità campagna queste tre mappe le ritroveremo anche nelle altre modalità presenti su Jurassic World Evolution 2 tra cui la modalità sandbox e ogni singola isola sarà in quel caso indipendente. In questo DLC saranno presenti anche dei nuovi edifici, delle decorazioni legati all'isola di Malta che potremo utilizzare come vorremmo poi in tutti i parchi che costruiremo dall'8 dicembre in avanti. Per quanto riguarda gli animali saranno presenti 4 nuove specie, ciascuna di esse avrà 12 colori più 7 tipi di pelle diverse. E sì, ci saranno gli Atrocyraptor che potremo creare utilizzando le skin che si vedono anche nel film Jurassic World Dominion, quindi potremo liberare nei parchi che creeremo Pantera, Ghost, Tiger e Red. Ci sarà anche l'istrosauro, un erbivoro basso e tozzo che si distingue per le sue zanne e il becco cornuto che utilizza per cibarsi della bassa vegetazione e questo animale tra tutte le skin disponibili avrà anche quella del 2022, cioè quella che si vede nel film Jurassic World Dominion. Sarà presente anche l'oviraptor che possiede una mascella potente per le sue dimensioni. Si pensava all'inizio che fosse un ladro di uova ma si è poi scoperto che in realtà è un animale onnivoro. Avrà naturalmente una cresta sulla testa delle piume e nel gioco potremo crearlo anche con la skin 2022. Vi giuro che quest'altro invece animale me l'ero completamente dimenticato, sto parlando del Moros Intrepidus che sarebbe uno dei tirannosauridi più piccoli mai esistiti. Appare pochissimo nel film però comunque c'è ed è noto per essere un cacciatore veloce e agile, anche lui avrà la skin 2022 ovvero quella che si vede nel film. Per quanto riguarda altri animali vi dico subito che sarà inclusa la skin che vediamo nel film del Carnotauro, quella a cui manca un corno, e dell'allosauro, entrambi vengono liberati da Owen quando quest'ultimo fa un po' di casino al mercato nero. Potremo creare anche i Dimorphodon con una nuova skin e finalmente l'Iguanodonte che si vede nel prologo di Jurassic World Dominion. Questo ragazzi è tutto quello che ci aspetta acquistando questo DLC, naturalmente appena verrà reso disponibile ve lo porterò immediatamente sul canale, non preoccupatevi, e cercherò di mettervi in descrizione dei link dove acquistarlo eventualmente a prezzo scontato. Vi ricordo che sarà disponibile a partire dal prossimo 8 dicembre al prezzo di 20€. Nel prossimo video daremo un'occhiata al nuovo update gratuito che verrà pubblicato lo stesso giorno di questo DLC e che tutti potremo quindi scaricare e provare. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto e vi possa tornare utile, magari nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, per quanto mi riguarda secondo me hanno fatto un ottimo lavoro, però magari se qualcuno ha delle altre opinioni non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Naturalmente ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi dei nuovi contenuti dedicati a Jurassic World Evolution 2, e noi ci rivediamo in un prossimo video dedicato a questo videogame. Alla prossima! Ciao!